come no ma non tanto ok forse la pezza funziona da te funzionerai di sicuro perché stai avendo il nostro quando sarai sopra provo di non essere provo di stare come un spairo come un ragno e io voglio che tu avendo una posizione prendi conto a 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